ciao ragazzi io sono nicolò bentornati sul mio canale oggi review davvero molto interessante una scarpa davvero davvero bellissima una delle jordan 4 più attese e più ricercate dell'anno sicuramente una delle colorway migliori e i prezzi di resell parlano l'interesse è stato davvero altissimo e non è stato assolutamente facile prenderne un paio nonostante le quantità non fossero poi super iper mega limitate come tante altre scarpe infatti per l'appunto io ho dovuto chiedere una mano a un amico di lasciarmene un paio della mia taglia per poterne fare la recensione per potervi portare la review direi di non perdere altro tempo e cominciamo subito con l'unboxing tanto per cominciare box d'eccezione davvero molto molto bello molto simile a quello delle military black in questo caso la differenza principale o l'unica differenza è che invece che il nero con gli spruzzi di colore in bianco troviamo un box in blu con gli spruzzi di colore in grigio che vanno appunto a riprendere i colori poi della scarpa il midnight navy troviamo nella parte superiore il nostro flight con il jumpman al posto della i in rosso il nome della scarpa è air jordan 4 retro in colorazione white midnight navy appunto andiamo a aprire la scatola all'interno carta protettiva con la classica cement print che protegge le nostre jordan 4 midnight navy una jordan 4 davvero molto 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 bella molto facile da vestire ha molto pulita colori belli la maggior parte della tomaya come potete vedere è bianca e il color blocking per i più appassionati ovviamente riporta alla white cement è praticamente la stessa scarpa le uniche differenze sono il colore nel senso che nella white cement i dettagli erano in nero dove c'era il nero nella white cement nella midnight navy hanno messo appunto il colore midnight navy quindi questo blu notte molto intenso l'altra differenza è sul back tab in cui possiamo trovare nella midnight navy un jumpman mentre nella white cement almeno le versioni oggi hanno più classico e tante volte più apprezzato nike air oltre a questo la scarpa è veramente identica troviamo la maggior parte della tomaya come dicevo in bianco in pelle abbastanza morbida non sembra davvero essere niente male come pelle e i dettagli della ormai classicissima cement print questa trama molto particolare in cui al di sopra della vernice ci sono questi schizzi di colore molto casuali in questo caso in colorazione blu personalmente è uno dei miei dettagli preferiti nelle jordan 4 questo insieme alla elephant print sono due trame molto molto tipiche di nike e soprattutto di jordan e hanno sempre avuto un grandissimo successo dei dettagli che mi piacciono davvero tanto in questa scarpa sono i leggerissimi accenti di rosso che possiamo trovare in pochissimi punti in realtà innanzitutto qui in sulla linguetta dove troviamo l'etichetta ricucita troviamo il nostro jumpman in blu e la scritta flight in rosso dopodiché troviamo in rosso le cuciture per le air jordan che troviamo scritto all'interno della linguetta un altro classico di jordan 4 che ha cucito al contrario si può leggere soltanto nel momento in cui viene rigirata la linguetta infine molto molto bella è la suola a me piace veramente tanto il modo in cui hanno creato il color blocking della outsole in gomma con i nostri pannelli una fusione di bianco rosso blu notte e grigio davvero davvero bellissima secondo me immancabile la gabbia in gomma che troviamo qui sulla parte laterale della scarpa sia interna che esterna e anche al di sotto dei lacci in questo caso è bianca gomma bianca con al di sotto delle parti in mesh anche queste bianche quindi tono su tono senza andare a dare troppo spicco inutile i dettagli di spicco sono invece le alette che fungono da passanti per i lacci che possiamo trovare in plastica dura in colorazione midnight navy altri dettagli midnight navy ne possiamo trovare effettivamente pochi ne troviamo qui sulla outsole che va a formare anche una parte anteriore della midsole come dicevo sul back tab troviamo il jumpman in blu midnight navy e anche all'interno dell'imbottitura ma solo la parte della linguetta è appunto in questa colorazione blu notte all'interno la soletta è blu con un jumpman in bianco e il resto dell'imbottitura è bianca modello giordan 4 modello quasi completamente invernale nel senso che si viene indossato tanto anche d'estate ma onestamente è piuttosto pesante come scarpa è decisamente più indicata per l'inverno non eccessivamente traspirante non proprio leggera leggera proprio anche a livello di peso e non soltanto di materiali è una scarpa un po più indicata per l'inverno secondo me anche a livello di colorazione diciamo che con queste tonalità molto fredde è un po più indicata per la stagione invernale e periodi freddi ciò non toglie che essendo una scarpa bianca può essere indossata molto tranquillamente anche d'estate però io ho provato a indossare le mie giordan 4 d'estate e vi assicuro che non è che sia stato proprio un bijou una volta tolta la scarpa i piedi non è che erano proprio in condizioni impeccabili una cosa che avrei apprezzato un po di più sarebbe stata l'aggiunta di un paio di lacci extra in questo caso noi abbiamo soltanto a disposizione quelli bianchi che sono già inseriti nella scarpa sarebbe stato bello avere anche l'opzione di un laccio in colorazione nevi molto blu scuro magari pochi l'avrebbero effettivamente usato ad esempio io no però si vede tanto che ultimamente Nike sta andando molto sul risparmio di livello di accessori e di dettagli anche ad esempio andando a guardare all'interno troviamo molto banalmente la carta accartocciata per andare a tenere la forma della scarpa quando una volta fino all'anno scorso utilizzavano sempre quelle di cartone duro e addirittura fino a qualche anno fa per i modelli jordan un po per i modelli jordan retro utilizzavano una forma per la scarpa in plastica dura che dava un aspetto molto più premium alla scarpa questi ultimi tempi stanno continuando ad alzare i prezzi abbassare la qualità non fa impazzire però possiamo farci poco e di sicuro non sarà questo a fermare le persone da comprare queste scarpe pensare all'interesse che hanno adesso le jordan 4 mi riporta a due anni fa quando ho fatto l'unboxing delle mie fire red e come titolo avevo messo appunto inizia la wave delle jordan 4 avevo ragione adesso la jordan 4 è la scarpa più ricercata di tutte è addirittura diventata più popolare delle dunk è diventata più popolare delle jordan 1 chiaramente è sempre così i trend cambiano i trend crescono e onestamente è molto comprensibile che sia questa la prossima wave perché la jordan 4 è una scarpa davvero molto molto bella ha sempre avuto una silhouette davvero molto apprezzata unica super riconoscibile e con tantissimi tipi di outfit sta veramente molto bene outfit che creerei io con questa scarpa è qualcosa che vada a matchare con i colori della scarpa non essendo troppo impattanti e troppo invadenti i colori del modello quindi sia il grigio che il midday navy è possibile tranquillamente andare a riprenderli con altri pezzi che fanno parte dell'outfit io ad esempio come potete vedere ho messo una felpa in colorazione midnight navy che va a riprendere lo stesso colore della scarpa con un pantalone molto neutro in questo caso è un levis 551 con questo lavaggio quasi cream tendente un po al grigiastro abbastanza particolare molto neutro appunto infine con una giacca bianca che va a riprendere anche il colore bianco della scarpa secondo me outfit molto bello molto semplice come sapete nel mio stile che riesce a valorizzare davvero molto bene questa scarpa altra cosa che potete fare è andare a mettere i colori neutri una cosa che vi sconsiglierei magari è il nero che con il color nevi non è proprio il massimo a parere mio altrimenti potete andare a esagerare un po e andare a riprendere le leggerissime tonalità di rosso aggiungendo qualche dettaglio rosso all'interno dell'outfit se proprio volete creare qualcosa di un po più esoso parlando di informazioni sulla release la scarpa è stata rilasciata il 29 di ottobre non da tutti i retailer ce ne sono alcuni che l'hanno rilasciata durante la settimana successiva per problemi di spedizione e di distribuzione al prezzo di retail di 200 euro subito dopo la release il resell della scarpa è già alle stelle si trova già intorno ai 300 e 350 euro in base alle taglie più verso i 350 che verso i 300 e penso che andrà quasi soltanto a salire adesso magari nel momento in cui sono arrivate tutte le paia a tante persone il prezzo scenderà di quei 10-20 euro come al solito perché si fa un po la gara a ribasso per chi le vende più in fretta ma a parte questo ci stiamo già avvicinando a natale io sono abbastanza sicuro che appena superate le festività arriveranno intorno ai 400-450 euro perché sono molto molto richieste molto molto belle colorazioni invernali le vorranno tutti quanti come regalo di natale quindi se ne avete preso un paio e volete soltanto resellarle se proprio devo darvi un consiglio è quello di tenerle almeno fino a dopo natale per quanto riguarda la calzata è molto soggettiva per molti è true to size per tanti altri invece calzano leggermente strette ovvero è necessario andare con mezza taglia in più in modo che la scarpa non sia troppo aderente quello che posso consigliarvi è se siete andati true to size di tenere la scarpa allacciata in modo molto largo in modo molto stritter definiamo se volete vedere qualche metodo dell'allacciatura per la jordan 4 ho già rilasciato un video sul mio canale potete trovarlo ma generalmente vi consiglierei di andare con la vostra taglia naturale nike che indossate magari non prendete come riferimento le air force one perché sono scarpe leggermente più larghe o se volete comunque un fit molto comodo che non sia troppo aderente sul piede tenete presente la vostra taglia di air force one bene ragazzi per questa review della jordan 4 midnight navy è tutto fatemi sapere nei commenti voi che cosa ne pensate se le avete prese non le avete prese se le avete prese resell se volete prendere resell a natale fatemi sapere qualsiasi vostro pensiero e opinione come al solito se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like e noi ci vediamo alla prossima